Il corridoio dell'eterno tormento, oh no, altro livello a scorrimento, me l'ero scordato questo, me l'ero completamente scordato. Dio mio. E via! In mezzo ai dennati e ai sassoni giganti. No! Mi ero completamente... oh Gesù! Mi ero completamente dimenticato... Della sola esistenza di sta parte. Cioè mi ricordavo che andavamo già ad Ade, non mi ricordavo che... Che facevamo il tour dell'inferno. Tra l'altro sbaglio stiamo... Allora, no, meglio che sto zitto, stavo per dire... Sbaglio stiamo andando meglio di quello del ciclope. Ok, qua. Con calma, fuck! Come ho fatto a mancarla? No, gli spettri! Gli spetti sono fantasmi, non dovrei andarci contro, sono incorporei. Cacchio! Oh, fuck! Ecco qua! Addio ai sassoni! E dai! Ma era inevitabile! Scusami! Andiamo a sinistra, dai! Forse era meglio destra, non so perché ho avuto sto presentimento. Bibita, bibita, bibita! Non so se me l'ha contata come vita persa. Calmo. Ecco fatto. Calmo, piano. Ok, dai. Ce la possiamo fare. Siamo, penso, spero, a un buon punto. Siamo alla C, quindi siamo già a metà delle lettere. Il che le abbiamo perse praticamente tutte, ma questo vuol dire comunque che siamo a metà del percorso. Gira piano. Perfetto. Dai che il sasso gira di nuovo. Perfetto, vai. Ok, evitato. Calmo. No, cacchio, ho saltato troppo corto! Ho saltato troppo corto! Stupido che sono. Eccole! Fuck! E comunque cadere in acqua, sì, te la conta come morte. Dai, che palle! Ok. No, e dai, quel sasso da dove è uscito! Ok, cerchiamo di evitare Ade e il suo carretto piano. Sì, tanto il letto è, ragazzi, ormai. Sono... Dove sono? Eh, non vedo. Sono un'utopia. No, di nuovo nello stesso punto! Dio mio! Ma non è possibile! Io l'ho fatto giusto il salto! Ma che palle! Stiamo andando bene però, porca di quella puttana! Continuiamo... A perdere... Tempo e vita su un punto stupidissimo! La mia voce, però! Su un punto davvero stupido, piano. Prendiamo l'energia e evitiamo il sasso. A questo giro davvero di nuovo l'ho preso. Ok. Vai! Oh, e va bene, guarda, va bene, va bene. L'ho preso il danno. Che poi sempre davanti a Hermes. Che stronzo! Ho perso... No! Ho miscliccato qui. Vabbè, per fortuna siamo già qua davanti, dai. Qua ho miscliccato, ho fatto velocemente... X due volte. Ok. Dai. A me fa ridere che ci siano... Tutti sti scheletri che corrono. Non so perché. No, piano. Quando ci sono... Questi che cadono... Meglio... Rallentare, allora. Quindi... Ok. Ah, vabbè, fa niente la bibita. Abbiamo preso le scarpe. Oh! Ma dai! A sto punto tirameli giù tutti. Ok, piano. Che qui... Tanto per fortuna non è a tempo sta prova. Se fosse stata, sarebbe stata... Decisamente... Beggio... Beggio... Ah, fuck. Qualcosa l'ho colpito. Presa! Oh, oh. Calmo, calmo. Calmo, piano, piano. Rallenta. No! Pensavo che mi... Allora, sincero, pensavo mi avrebbe fatto correre sull'acqua. Lo... Lo dico... Sinceramente. Ci ho sperato. E ci mancano due vite. Non mi va di rifarlo da capo, per favore. Per favore. Fammi arrivare... Almeno alla fine. Poi se dobbiamo rifare... La parte finale del gioco, va bene, va bene. Non è un problema. Però almeno... Sto pezzo qui... Fammelo finire, ti prego. Ok. Questa volta il sasso... L'abbiamo evitato, ma non questo. C'è una bibita qui vicino, per favore. Piano, per favore. Guarda, io posso evitarli saltando? Sì, fanculo. Va bene così, va bene. Allora. Bibita. Oh, oh, oh. Occhio, occhio, occhio. Di nuovo. Ma non riesco a saltare! Non ha saltato! Ma che cazzo? Dai, non mi va di rifare per niente sto livello. Maledetto! Sia lui che il livello, veramente. E allora... Sai cosa? Vaffanculo gli scarponcini, saltiamo a mano. Cioè, saltiamo a piedi. Lo faccio io il salto, perché veramente non è plausibile. Se mi dai gli scarponcini, mi devi dare anche il tempo materiale... Di farlo il salto. Cioè, io capisco che è la parte finale del gioco. Ultimo pezzo di livello e quindi la difficoltà, ok. Però cacchio! Che poi, scusami. Va bene tutto, però... Perdere vite solo perché cade in acqua. Cioè, veramente... E' ingiusto. Piuttosto veramente... Rifarmi ricominciare da un pezzo prima con meno salute. Ok. Sono comunque in difficoltà. Ma per lo... Meno... Eh, no. Ok, siamo alla S, però. Visto la S, questo vuol dire... Che siamo nella sezione finale. Dobbiamo evitare questi, però. Fuck! Eh, cosa mi aspettavo dalle lettere, dai! Non prendiamoci per il culo. Però, però, però... 80% Ragazzi, concentrarsi! Ragazzi,gae, nessun pa bo. Autore delうone. Ci senti con la mia intenc Zaia. Grazie a tutti. È una grande data. Grazie a tutti. Ci senti con la mia… Ma contestare… Vi need?